Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ancora un'allerta meteo, in questo caso di Codice Giallo, per tutta la giornata di domenica 12 novembre. Codice Giallo che interesserà anche il territorio aretino, in particolare il Valdarno Inferiore, tutti i particolari comunque sono reperibili sul sito della Regione Toscana. E allora, parlando proprio di maltempo, ma in questo caso dei gravi danni che anche il territorio aretino ha subito, soprattutto la sera del 2 novembre, oggi il Presidente Gianni ha firmato una lettera con la quale chiede di estendere lo Stato di emergenza nazionale alle province di Lucca e Massa Carrara, ma per il momento non ha incluso il territorio aretino. Luca e Massa Carrara, sì. Arezzo, con i comuni di Castelfo Cognano e Civitella in Valdichiana, no. Per il momento non ci sono i comuni dell'aretino colpiti dalla tromba d'aria del 2 novembre scorso, nella lettera inviata al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per inserire nello Stato di emergenza i territori esclusi in un primo momento. A chiederlo erano stati gli stessi enti locali e anche il Consiglio regionale aveva presentato una richiesta bipartisan. Nella lettera del Presidente Gianni sottolinea come nell'immediatezza dell'evento la Regione avesse provveduto a richiedere lo Stato di emergenza di rilievo nazionale per i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. L'evolversi del fenomeno, scrive Gianni, e il successivo inquadramento delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dalle amministrazioni locali, ha messo in evidenza come gli eventi abbiano causato criticità e danneggiamenti anche nei territori delle province di Lucca e Massacarrara. Non si fa dunque menzione dei comuni dell'aretino, eppure anche qui le persone e le aziende hanno subito danni davvero importanti. A Pieve al Toppo, comune di Civitella in Valdichiana, c'è stato un calzaturificio travolto da un pino e dichiarato inagibile, oltre 10 persone sono attualmente senza lavoro. A Pieve a Socana i tetti sono stati tutti divelti ed è stato colpito anche l'asilo nido. Il sindaco di Castelfo Cognano si esprimeva così qualche giorno fa durante l'invio della lettera appunto al Presidente Gianni per la richiesta dello Stato di emergenza. Questa lettera inviata al Presidente della Regione Gianni e per conoscenza alla difesa del suolo e alla protezione civile della provincia di Arezzo serve chiaramente per interessare la Regione che anche noi dovremmo essere inseriti nell'elenco dei comuni che hanno subito danni perché sostanzialmente le nostre famiglie chiaramente hanno avuto dei danni ingenti. Nella lettera che ho inviato al Presidente è circostanziato un po' tutte le criticità che abbiamo avuto. Credo che noi non siamo cittadini di Sarebi, i danni li abbiamo avuti come gli altri, anzi solidale per tutti i danni che sono stati procurati nella provincia di Prato, che è assolutamente grave perché ci sono stati anche dei morti e lì purtroppo la situazione è ancora più drammatica. Però è chiaramente anche la nostra, che fortunatamente non è stata drammatica perché diavoluto che la gente fosse in casa, ma i danni economici, tetti anche rifatti da qualche mese con i 110 che sono stati letteralmente distrutti. Alcuni consiglieri regionali firmatari della risoluzione sentiti dalla nostra redazione ci hanno risposto. Acquisirò ulteriori informazioni per capire meglio, afferma Stefano Scaramelli, Italia Viva. E ancora Gabriele Veneri di Fratelli d'Italia. Il territorio della provincia di Arezzo è stato duramente colpito. Credo si tratti di una dimenticanza, visto l'atto che è stato approvato durante l'ultima seduta consigliare. La dichiarazione di stato di emergenza risponde a criteri rigidi, afferma invece Lucia De Robertis, Partito Democratico, criteri stabiliti dal decreto legislativo 1 del 2018. Non c'è discrezionalità politica, chi sostiene questo è in mala fede. Avremo comunque modo, conclude la De Robertis, di interloquire con il presidente Gianni, che ha a cuore tutta la Toscana. E mentre la Toscana cerca appunto di risollevarsi dalla grave ondata di Moltempo che l'ha colpita, continua l'opera dei volontari nelle zone alluvionate. Queste foto ci raccontano l'impegno del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Tra questi anche il gruppo di Arezzo impegnato a Campi Bisenzio e Oste di Montemurlo, svolgendo soprattutto attività come sgombero di detriti, drenaggio del terreno di strade, assistenza alla popolazione alluvionata. E siamo alla cronaca, esce per cercare funghi e si ferisce gravemente. È accaduto poco prima delle 8, oggi nei boschi intorno a Molinuovo, un uomo di 69 anni, mentre appunto si trovava in cerca di funghi, è caduto accidentalmente. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e un'automedica che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Un altro grave incidente invece è avvenuto nelle campagne aretine. Poco prima delle 13 appiandiscò in via di Caselli, un 73enne che stava lavorando in un terreno di sua proprietà con un trattore durante la raccolta delle olive per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è stato travolto sul posto. La Misericordia di Piendiscò, un'automedica e l'elisoccorso presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, i carabinieri in particolare. L'uomo è stato trasportato in codice rosso a Careggi ma non è in pericolo di vita. Un incidente stradale infine in Val di Chiana. Un ragazzo di 17 anni investito da un'auto alle 13 a Terontola in via 20 Settembre. Sul posto un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona che ha trasportato in codice giallo il 17enne all'ospedale delle Scotte di Siena. Ci spostiamo in Val d'Arno adesso per parlare di furti. Neppure gli uffici del comune sono sfuggiti alle attenzioni dell'Adria Montevarchi dove nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di furti in appartamento e in esercizi commerciali e dove cresce così la preoccupazione tra i residenti. L'ultimo raid all'Urban Center del municipio è in via de Mille alcune notti fa. Qui i malviventi hanno forzato un infisso, sono entrati nel locale delle Anagrafe ed hanno setacciato armadietti e scrivanie alla ricerca di denaro racimolando un magro bottino prima di darsi alla fuga. Pochi giorni prima un analogo episodio allo spazio Politeama. In questo caso dopo aver scassinato di notte un fortone di servizio i ladri erano riusciti a portare via materiale dal bar e un computer per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Il sindaco Silvia Chiasai Martini alla luce degli ultimi episodi aveva chiesto un confronto con il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo ricevendo massima collaborazione. A breve a Montevarchi l'arrivo di una task force dal capoluogo di Regione sarà impegnata per passare al setaccio l'abitato finito più volte al centro di simili operazioni contro microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Presentato il calendario dell'arma 2024, sentiamo allora quali sono appunto i temi del calendario storico come sempre davvero tanto amato dai cittadini. Sentiamo. 12 storie eterogenee per epoca storica, ambientazione, geografica e avvenimenti narrati, tutte unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell'arma. Si intitola I Carabinieri e le comunità, il calendario storico 2024 dell'arma dei carabinieri dedicato al tema e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, un filo rosso che unisce momenti di soccorso a momenti storici per il nostro paese come la recente alluvione in Romagna. Le storie descritte dalla penna di Gramellini narrano alcune delle gesta più eroiche come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole e altri appartenenti alla vita di tutti i giorni come il sostegno alle persone più fragili e la pandemia da Covid-19. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni piccole e grandi ai bisogni delle persone sono il fil rouge che caratterizza da sempre l'operato dell'arma e che ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024. E adesso ci spostiamo invece ad Anghiari per una vicenda che ha fatto discutere ma alla fine a mettere insomma a tacere tutti è stato il parroco ovvero Don Alessandro che ha battezzato i due gemelli. La storia l'abbiamo raccontata più volte di due mamme che appunto risiedono ad Anghiari che hanno affrontato un'importante battaglia alle gare per essere riconosciute appunto tali e adesso c'è stato anche il battesimo dei due piccoli. Sentiamo allora Don Alessandro ai microfoni di Chiara Sadotti. Soprattutto nel sacramento del battesimo che è per antonomasia il momento nel quale si accolgono i nuovi figli che arrivano all'interno della chiesa quindi Papa ci sta aiutando ad andare in questa direzione che poi è sempre stata la direzione della chiesa. È un messaggio di apertura e accoglienza quello di Alessandro Bivignani la parroco che ha battezzato i gemellini delle due mamme di Anghiari. Lo ha fatto in linea con quanto affermato nei giorni scorsi dal documento senza precedenti e approvato da Papa Francesco con il quale si dice sì a battesimi di persone transgender e figli di coppie omosessuali. In qualche modo conferma ecco l'apertura che la chiesa deve avere verso la vita delle persone. La coppia ha seguito il percorso di avvicinamento al sacramento lo scorso 19 giugno il battesimo nella chiesa della propositura di Anghiari. Mi hanno contattato e ci siamo incontrati sia per concordare ovviamente data e orario del battesimo e anche per incontrarci per un momento di preparazione. Venta l'occasione non tanto per fare il catechismo sul battesimo ma è l'occasione per il parroco per conoscere, per incontrare. I gemellini di Anghiari sono nati nel giugno 2022 dopo che una delle due madri si era sottoposta ad inseminazione artificiale, ovuli fecondati poi passati con trasfer embrionale alla compagna che li ha partoriti all'ospedale San Donato di Arezzo. Solo la mamma che ha dato la luce ai piccoli però è riconosciuta come tale, da qui una lunga battaglia legale pendente un pronunciamento del Tribunale dei Minori di Firenze sull'adozione speciale. È un'attività per giovani, l'agriturismo sembra non soffrire il problema del ricambio generazionale, tanto che il 25%, ovvero un titolare su quattro di una struttura agrituristica è under 35 o comunque sta entrando alla guida dell'azienda. Lo dicono i risultati dell'indagine 2023 di agriturismo.com e di Agrietour su un campione di mille strutture ricettive di campagna presentata proprio al Salone Nazionale dell'Agriturismo che come sappiamo è in corso fino a domenica 12 novembre all'Arezzo Fiere e Congressi. Parliamo adesso invece di diabete in avvicinamento alla giornata mondiale contro il diabete che ricorre il 14 di novembre c'è un importante accordo con le farmacie. Torniamo a parlare di diabete, sono sempre di più i casi sommersi, allora l'appello qual è? Che in questo momento nel mondo sono oltre 500 milioni di diabetici, quindi è una vera e propria pandemia se la vogliamo chiamare così, come d'altronde anche in Italia sono oltre 3 milioni e mezzo, probabilmente entro il 2030 arriveremo a 5 milioni. quindi la prevenzione sarebbe fondamentale, prevenzione soprattutto nell'ambito del diabete tipo 2, cioè del diabete che deriva in età, ora si stanno abbassando l'età, una volta era sopra i 35, sopra i 40 anni, adesso purtroppo si sta abbassando perché? Perché i problemi più grossi sono legati alla obesità, a stili di vita e alimentari sbagliati che possono quindi favorire questo famoso diabete tipo 2 che è il diabete, una volta era il diabete dell'età adulta ma ora come ripeto si sta abbassando. Ecco ma ci sono campanelli di allarme diciamo così banali che un cittadino può riconoscere? Se hai per esempio una grande sete, se tendi a essere piuttosto rallentato in certi momenti della giornata, ecco queste sono le due cose che difficoltà di concentrazione nell'arco della giornata, sono condizioni che possono indicare. Quali sono le questioni rimaste ancora aperte per chi soffre di diabete e che vorreste insomma che venissero accolte anche dal sistema sanitario? Purtroppo oggi si paga qualsiasi cosa, parliamoci chiaro, oggi con i tempi che corrono pagare anche cose che sono necessarie per la tua vita diventa difficilissimo, in molti casi la mia preoccupazione è che si evita di farle, evitando di farle magari ci si ritrova in momenti pericolosissimi di complicanze dove non si può più uscire. Come associazione avete però una convenzione? Sì abbiamo una convenzione sia con le farmacie comunali che con le farmacie private di un 10% secondo in alcuni casi anche qualcosa di più su prodotti da manco che servono a diabetici perché spesso i diabetici per alcune situazioni hanno bisogno di creme e di altre cose. Quindi l'invito qual è? Comunque a rivolgersi ad un'associazione come la vostra perché almeno a livello informativo insomma le informazioni non costano nulla mi verrebbe da dire. No però l'importante è che si sia fatto questo collegamento con le farmacie di comunità che stanno diventando sempre più importanti per i territori. Le farmacie di comunità offrono consigli fatti da un medico che in alcuni casi è molto meglio che fatti da un'associazione che è informatissima, non ci piove però chiaramente un medico dà più certezze. L'associazione è presente per quanto riguarda le informazioni abbiamo fatto un deployment bellissimo che spiega cos'è il diabete però oltre certi limiti anche perché dobbiamo dircelo chiaramente siamo pazienti diabetici e non siamo medici. Ecco sul fronte delle informazioni a chi si possono chiedere e con quali modalità? Allora le modalità è tramite i vari canali quindi le persone si possono recare direttamente qui da noi con appuntamento telefonico, insomma contattandoci e saremo liati appunto di andare a valutare con voi questo parametro così importante per la popolazione. Svelati i nomi delle premiate del premio Semplicemente Donna giunto alla sua undicesima edizione che anche quest'anno sarà ospitato a Castiglion Fiorentino. Il premio Semplicemente Donna arriva alla undicesima edizione, tanti temi di stretta attualità che anche quest'anno verranno portati sul palco del teatro di Castiglion Fiorentino. Beh come sempre sarà un premio molto trasversale perché parleremo proprio di violenza nuda e cruda, parleremo di integrazione, parleremo di diritti umani perché avremo tra le premiate un'attivista iraniana, tema attuale del momento. Parleremo anche di impegno per la legalità con la vedova del caposcorta di Giovanni Falcone e con un magistrato, con la dottoressa Anna Maria Frustaci, magistrato di Catanzaro che fa parte del pool antimafia appunto di Catanzaro. Parleremo anche di parità di genere, avremo la prima donna meccanica in scuderia Ferrari, parleremo di impegno per la pace con una ex vicepresidente della Corte dei diritti umani dell'AIA, quindi un premio molto trasversale ma che parla esclusivamente di donne che lottano, sono sempre in trincea per i diritti, per i propri diritti. La serata che si svolgerà il 24 novembre alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è preceduta da un lavoro intenso nelle scuole dell'Aretino. Quest'anno sono 15 gli istituti coinvolti in tutte le vallate tra i temi del premio, uno che riguarda più da vicino proprio i giovanissimi, il cyberbullismo. Tra i premiati avremo il dottor Paolo Picchio che è padre di Carolina Picchio, morta suicida all'età di 14 anni proprio a causa di vessazioni attraverso il web e che grazie al suo impegno con la sua fondazione è riuscito a far approvare la legge che ritiene il cyberbullismo e il bullismo un reato. Quindi argomenti significativi, attuali, a cui dobbiamo dare molta attenzione. Ed è tutto pronto e c'è una grande attesa anche per un altro premio, questa volta di Natura Letteraria che ha ospitato ormai da tanti anni ad Arezzo, ovvero il premio Tagete. Il nostro obiettivo è come sempre, come nello statuto dell'associazione, quello di valorizzare le opere degli autori Aretini e non, di promuovere quei libri che hanno dei meriti perché sono veramente scritti bene. Il premio Tagete che ogni anno conferisce riconoscimenti a scrittori nati o residenti nella provincia di Arezzo taglia quest'anno il traguardo del quarto di secolo. Dal 2021 all'evento si unisce poi il premio letterario nazionale Etruria. Le attese premiazioni sono fissate per giovedì 16 novembre alle 16.30 nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Il lavoro è stato lungo sia nella selezione, nella valutazione di tutte le opere arrivate sia nel redigere attraverso le varie commissioni, le varie giurie, di redigere la rosa dei finalisti e sono emersi sei finalisti per il premio Etruria poesia e sei per il premio Etruria narrativa che sono tutti provenienti da varie parti d'Italia. Ospite d'onore della cerimonia lo scrittore Paolo Ruffilli che tratteggerà l'opera dita Lo Calvino a cui quest'anno nel centenario della nascita è dedicato il premio Tagete. Abbiamo la fortuna di avere la sua collaborazione ormai da quattro anni. Lui è presidente del premio Etruria poesia, è nella giuria e è anche membro unico della giuria degli inediti del Tagete di racconto e di poesia. Sarà infine assegnato il premio Opera Omnia ad un personaggio che si è particolarmente distinto in ambito letterario e scientifico. Il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti e gli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi saranno domani a Pratantico in festa, un'iniziativa organizzata dal proloco della frazione che si trova alle porte della città di Arezzo e che vedrà tra le altre cose come manifestazione principale un raduno di auto e moto d'epoca. Questa iniziativa sarà però anche l'occasione per inaugurare i nuovi giochi per bambini che proprio grazie all'impegno della proloco sono stati appunto sistemati. Il taglio del nastro, come dicevamo, avverrà alla presenza appunto di Lucia Tanti, Alessandro Casi e Federico Scapecchi. Poi un raduno di auto e moto d'epoca con la presenza addirittura di tre club dell'Aretino. E siamo allo sport, l'Arezzo si prepara al match di campionato che lo vedrà in scena domani, domenica 12 novembre, in casa contro il Pineto. E allora sentiamo le parole di Mister Indiani. Ma sì, l'anno scorso sono rimasti in pochissimi davvero, mi sembra due, due vale la tre. E' chiaro, la squadra subisce poco, la squadra subisce dieci gol soli. Si sta andando a difendere, si sta andando a difendere, non hanno esagerato nemmeno la guffanza, però la squadra si sta andando a difendere, ovviamente. Sono estremamente soddisfatto di quello che hanno fatto le ragazze. Sempre bisogna migliorare, anche se fosse più un cazzino, direi, come dicevo l'anno scorso, anche se fosse più un cazzino, direi che bisogna migliorare, notevolmente in tutti gli aspetti, però sono estremamente soddisfatto di avere le ragazze. Sempre per l'Arezzo arrivano brutte notizie dall'infermeria, perché Lorenzo Polvani dovrà operarsi. Assente da un mese e mezzo per una forma di acuta pubalgia, il difensore aveva continuato ad allenarsi a parte, senza però rientrare tra i disponibili. L'ultima sua apparizione era lo scorso 30 settembre. Al giocatore è stata diagnosticata un'ernia inguinale dello sportivo e dato l'insuccesso del trattamento conservativo, è stato concordato di ricorrere ad un intervento chirurgico. Il ritorno in campo dunque di Polvani è prevedibile non prima del prossimo gennaio. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per la visione!